Buongiorno a voi bambini, questa è la Sabri... Aaaaaaah eeeeeeeh Ok, non so bene come partire con questo video e... Non ho scritto nulla questa volta E sì, sto usando il modello VTuber che ho creato la settimana scorsa E se non avete visto il video, beh andatevelo a recuperare perché è molto bello Ma oggi vi volevo raccontare di come sono stato introdotto A quello che probabilmente è il gioco più tossico di sempre Uno dei giochi con la vita più longeva che la storia dei videogiochi abbia mai visto Uno dei giochi più competitivi che ci sia in assoluto Sto parlando di League of Legends, abbreviato LOL Non so se avete mai visto o sentito parlare di questo gioco O almeno credo che se navigate un po' di YouTube avrete visto almeno la pubblicità E le varie pubblicità di League of Legends che ha spammato l'anno scorso o due anni fa anche insieme a Scottex Smettila di giocare a quei videogiochi sul cellulare In League of Legends puoi distruggere le torri, guarda! Ah ah, sì, stupide torri, stupide, prendete questo E anche i tempi in cui si ho provato a vendere League of Legends, diciamo così, non ci sono mai caduto Ma recentemente vi sono stato trascinato da amici, letteralmente E oh cielo, in realtà è un gioco che sconsiglio a chiunque cerchi solo un vago passatempo Breve spiegazione Su League of Legends c'è una mappa molto semplice In cui c'è una lane centrale, infatti si chiama mid lane È una strada centrale, ok? Poi c'è una bot lane, ovvero una strada bottom, cioè in basso Una top lane, ovvero una strada in alto E la giungla, che è tutta la parte che è inclusa nei spazi qui dentro È un gioco in cui cinque giocatori si sfidano contro altri cinque giocatori C'è un top laner che va qua su Che è solitamente un attaccante fisico tipo il signor Coccodrillo Ciao, sono un attaccante fisico Ah, bebe Che può diventare relativamente tank, però vabbè, si giocano anche attaccanti a distanza Nella bot lane ci va il cosiddetto ADC, ovvero AD Carry Che per capirci è colui che fa danno fisico Solitamente a distanza Come per esempio tipa col cappuccio con un bellissimo arco E viene accompagnato da un support Che può essere ad esempio un tipo grosso Che è bello tankoso Che cerca di immobilizzare gli avversari Per appunto supportare il suo AD Carry Può essere anche un healer, cioè che ti cura O un mago che immobilizza, eccetera, eccetera In livello di difficoltà, secondo me, per iniziare Questi sono i ruoli migliori ADC e support Perché almeno non sei solo come un cane Poi subito dopo viene il toppe Dopo ancora c'è il mid laner Dove sono io, tra l'altro Quindi colui che va nella mid Di solito ci sono maghi di controllo o assassini In questa zona Io gioco mid con la carissima Zoe E che è tipo una loli Che fa tante cose simpaticamente Che corre felice nel mondo Ok? Quindi questo è il ruolo Secondo me 4 come difficoltà Direi 1, 2, 3, 4 Da non sottovalutare il support Perché un bravo support cambia la partita Guardare Paolo Cannone per riferimenti Streamer di LOL Poi abbiamo secondo me il ruolo Quasi più difficile Se non il più difficile in assoluto Che è il jungler Il jungler è dentro la giungla Quindi va qui dentro E si muove nella giungla E il ruolo del jungler Che può essere ad esempio il signor Lupo Mannaro Bau Il livello di difficoltà diciamo 5 Il jungler deve avere il controllo Più o meno di tutta la mappa Perché deve essere in grado di muoversi Mentre che ammazza i mostri nella giungla E aiutare per esempio mid Poi magari aiutare bot Poi magari aiutare top E così via Quindi il jungler è il ruolo più complesso Ovviamente abbiamo contrapposti a noi Gli altri rispettivi top laner Mid laner ADC e support avversari Così come il jungler avversario E voi direte Sì ma cosa tocca fare in questo gioco? Beh è molto semplice Lungo le lane ci sono delle torri Ah una è qua Una è qua Una è qua Una è qua 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 E non sto facendo il verso del paper Queste torri hanno un range Dentro il quale sparano al primo cattivone Tu incluso E gli fanno un sacco male Boom Se tu sei qui Boom Muori Cioè non è che muori Ti fa molto male Ok? Tu devi trovare un modo per Quale colore posso usare Combattendo bla 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 Va a distruggere queste torri Per arrivare fino alla loro base Dove c'è cosa bambini? C'è il cosiddetto nexus Chiamiamolo n così Protetto a sua volta da due torri Poi ci sono anche i mini nexus Vabbè Questo voglio semplificare Ok? Una volta distrutto il nexus La partita finisce E l'altra squadra vince Ok? Lo so Sta diventando complicato E lo è molto Io gioco da tre settimane Nel frattempo che tutta sta roba Prende luogo La cosa più divertente Sono gli insulti in chat Haha A parte scherzi Per questo suggerisco Di non iniziarlo E da solo League of Legends Ma in compagnia di un amico In cui vi possono insultare in due Eeeeeee Il problema di League of Legends È che c'è un po' di Quello che si può chiamare Gatekeeping Cos'è il gatekeeping Bambini? Cos'è questa parola? Vuol dire che c'è un po' di muro Da parte della comunità Con tanta esperienza nel gioco E rispetto ai novellini E vi faccio un esempio molto facile Giulio Mi invita a giocare a LOL Ehi Pau Vieni a giocare a LOL Ba 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 Ce ne divertiremo Io dico Va bene Giulio Ci vengo subito a giocare a LOL Al che lui dice Sì però devi utilizzare Anzi scusate Devi utilizzare Questi campioni Perché sono molto facili Da usare E così impari il gioco E io ho detto Ma questi campioni Fanno un po' cacare Esteticamente Non mi piacciono A me piace Questa bambina qua Con i capelli così Che corre in giro Molto felice Sto parlando di Zoe Da lì ho notato Un leggermente Atteggiamento diverso Da parte di Giulio Che gioca Già da anni A LOL Del tipo Come crede questo Di poter iniziare A sto gioco Con questa Che è così Difficile Da usare E che è proprio Tanto difficoltosa Da usare Lo so che voi Sembra strano Ma questa è una forma Di gatekeeping Bisogna pur sempre Ricordarsi che questo È un gioco E che i giochi Sono fatti per divertirsi Giusto? E zio Peo Si diverte molto Con Zoe Un altro esempio Di gatekeeping È dato proprio Dalla tossicità Del gioco Per tossicità Intendo dire Che beh Se la tua lane Va male Quindi diciamo Che sei morto Un po' di volte No? Questo sono io morto Bleh Perché qui magari Davanti a me Mi son trovato Un cristo di furri Molto potente Con le bocce Si perché Ci sono un sacco Di bocce In questo gioco Ok? E anche tante code Ci sono in questo gioco Quindi diciamo Che sono stato ammazzato Diverse volte Nella chat Cosa accadrà Secondo voi Franco scriverà Yo Mead fucking sucks bro Bro E io dirò Sorry Bro E Franco risponderà Tua madre è una troia E fa ancora più ridere Quando incontri I tuoi mitici Compaesani Che ti diranno Diciamo che è sempre Franco Ita E tu Nel pieno Della tua ingenuità Si amico mio Italiano Qui Cuoricino E Franco Risponderà Porco Di Perché LOL È un gioco Bello Nonostante tutto A parte La tanta feccia Che c'è Là in giro Perché ne è tanta Ma proprio tanta Ed è sicuramente Maggiore di Ma c'è anche Tanta brava gente Che magari ti dà anche Qualche suggerimento E ci hanno la coda La scimmia Così Perché mi piace E ci hanno le ali Da vampiro Perché sì Perché no Ed ecco i suggerimenti Da parte di un novellino Sul come Imparare LOL Ehe Sicuramente avere amici Come Giulio È molto utile Perché lui Avendo più esperienza Sicuramente ti suggerisce Cose utili No? Però la cosa Che io suggerisco Di più da fare È Guardare Guide E Tutorial Su Youtube In particolare Su cose importanti Nella tua lane Nella tua posizione Quindi diciamo Io guardo Tutorial della mid lane Su come comportarmi In base al comportamento Degli altri In particolare Del mio jungler Tutorial su Zoe Su come utilizzare bene E sfruttare al meglio Il champion Che ho scelto E in realtà Ne sto imparando anche altri Ma per ora va bene E guardo anche Parecchie Live O video in generale Su altre lane Questo perché Perché così so Come pensano Le altre lane In relazione A te E alla tua posizione E a cosa si aspettano Da parte tua In base a determinate situazioni Se siete dei mid laner Ho trovato molto utile Packing Wolf Che fa anche le live Su Twitch In quanto utilizza molto Zoe E ti dà un'idea Di come comportarsi Contro determinati Campioni Un altro con cui mi sono trovato Molto bene Si chiama Coach Curtis E addirittura Questo uomo Lavora con presentazioni PDF Per farti capire Meglio I concetti base O fondamentali Molto molto utile Addirittura lui utilizza La tavoletta grafica Per sottolinearti Delle cose E come potete vedere Qui addirittura Arranca in base alla difficoltà I champion Suggeriti per la mid lane Nella prossima season E io utilizzo Uno dei più difficili Ha ha Però in realtà Iniziando da uno dei più difficili Secondo me Poi è più facile Provarne altri Più facili Questa è stata la mia esperienza Guardate come spiega bene Utilizzando addirittura La sua tavoletta grafica Come comportarsi Nella lane Molto bravo Super consigliato E questo è quanto Per questo video Se siete interessati Io streamo Le partite di LOL Da lunedì scorso E penso che lo farò Ogni lunedì E spero più spesso Il pomeriggio Purtroppo io ho anche Una vita e un lavoro E vi invito a seguirmi Nel mitico sito Viola Se vi siete vagamente Intrattenuti O che vi sia fregato Un ceppo o meno Beh siete invitati A lasciare un bel like Iscrivervi Ma soprattutto Sapete cosa? Sapete cosa? La campanella E adesso vi faccio vedere Come faccio l'occhiolino Aspettate Ah Eh Ah Eh Eh Ah